Bentornati signori, ovviamente tutti i contenuti di questo video non sono dei consigli finanziari e non dovete basare nessuna decisione dei vostri investimenti guardando questo video. Oggi una bella carrellata di azioni, parliamo del loro dividendo, delle loro caratteristiche, pro e contro. I dividendi non sono mostruosi, tuttavia sono un comparto, quello legato alle energie che ha sofferto il rialzo dei tassi e lo sta soffrendo tuttora finché sono alti perché hanno proprio per la loro tipologia di business necessità di indebitarsi, di emettere obbligazioni e di conseguenza con i tassi alti vengono ripagati a prezzo più caro a chi presta soldi. Partiremo dal dividendo più alto, poi andiamo a scendere. Ho aggiunto ovviamente alle classiche utilities, classiche utenze domestiche, servizi di pubblica utilità sta a significare. Due petroliferi che bene o male il comparto è quello dell'energia. Così iniziamo subito. Iniziamo subito con Saras, questa azienda che non è più di Moratti che è stata venduta. Moratti ha venduto le sue quote e si è andato in pensione e si gode la sua vita di dividendi, molto probabilmente. Allora, molto importante, la capitalizzazione di Saras è di 1,68 billion, che è una middle cap, una media quasi diventa piccola quando sta a quel livello. Ha un dividendo molto interessante che paga una sola volta all'anno a maggio, dell'8,5% ai prezzi di oggi. Un payout per quanto paga di dividendo del 57%. È un payout che all'occhio può sembrare ottimo dal punto di vista, nonostante il dividendo che lo rende anche quasi sostenibile. Ha un bel grafico a un anno, ovviamente se lo allargate, chi ci era entrato 7-8 anni fa e non è un investitore dell'ultimo anno, si nota che si sta perdendo anche il 50%, il 60%, il 70% nei momenti peggiori. Quindi queste capitalizzazioni che non hanno un'importanza sistemica, che non fanno parte, diciamo, sì c'è tanta gente che magari lavora per Saras in Italia, però diciamo non hanno una rilevanza enorme a livello dell'economia, dell'indotto che creano in un paese, hanno sempre dei rischi queste capitalizzazioni. Tant'è che se andate a vedere lo storico non ha pagato il dividendo nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Probabilmente dopo il 2020 non solo lei, un po' tutto il comparto del petrolifero si è ripreso alla grande, sta guadagnando soldi, tutto quel petrolio che è stato prodotto anche nel 2020 quando i prezzi erano molto bassi, con dei costi più bassi è stato stoccato, nel senso che si può conservare il petrolio e adesso si sta ripendendo a prezzi molto più alti. È un buon periodo per i petroliferi, diciamo, del comparto delle energie per i petroliferi, un periodo sicuramente migliore rispetto a quello delle utilities che poi vedremo. Dunque, passiamo al secondo dividendo nel comparto energetico, torniamo alle utilities e questa la conosco ragazzi, è una bella capitalizzazione Edison che si possono comprare soltanto le Edison risparmio. Cosa sono le azioni risparmio? Sono delle azioni come tutte le altre che se distribuiscono dividendi te li danno, però non abbiamo voti, quando siamo azionisti non abbiamo voti a livello di assemblea, personalmente non voto mai, quindi ti arriva la lettera dalla banca, devi votare, chi vuole votare vota, ma il nostro voto ragazzi per quelle pochissime quote, a meno che non mi segue qualcuno di molto molto ricco, non ha rilevanza ai fini della delibera di tutte le assemblee. La seguo perché l'ho avuta in portafoglio, perché aveva staccato, ecco questa ha avuto una sorta di problema, io l'ho presa nel 21-22, adesso non mi ricordo, l'anno che uscì la notizia che pagava un mega dividendo per pagare i dividendi arretrati. Se andate a vedere lo storico che controllate, questa azienda per chi l'aveva in portafoglio non ha pagato dividendi per sette anni, è tanto ragazzi perché un utilities deve stare lì nel cassetto di un investitore, di un isparmiatore e dargli il dividendo. Magari pensate a chi si è ritrovato la posizione in rosso senza neanche incassare i dividendi, per questo dobbiamo stare abbastanza attenti nella pesca delle utilities. Adesso vi darò un'altra tritta subito dopo aver finito di presentare Edison che la conosco, tornato in pari dopo aver incassato due dividendi, oltre adesso non mi ricordo quello grosso o più uno e l'ultimo non l'ho preso, me ne sono andato perché ho detto preferisco trovare altro, grazie per il buon guadagno. Il payout è abbastanza sostenibile, ho trovato un po' di divergenze su Yahoo Finance, adesso poi magari o ve lo metto in sovrappensione oppure lo ritroveremo, bisogna fare ricerche un po' su Google. Il bilancio ragazzi è così così, poi un'altra cosa che mi ha fatto correre via da questo titolo, una volta oltre ai dividendi tornato in guadagno, è stato il fatto che sta vendendo parecchi siti di stoccaggio a Snam. Snam invece magari sì, soffrendo a livello di valore del titolo, si sta comunque allargando, ingrandendo, con continua espansione, non sta mai ferma e porta comunque sempre ottimi bilanci. Questa c'ha questo bilancio sì che ha un utile netto, ma un bel dividendo, ma sta qua. Una capitalizzazione di 7,2 billions che è buona perché poi la rende anche liquida. Adesso ci sarà un gruppone di utilities che pagherà, diciamo, dal quasi il 7% lordo al 6%, 6,3, però insomma poi ce ne sarà una da 4 che la cito perché comunque è una abbastanza grande che la conoscete in tanti. E voglio dirvi una cosa, siccome il rendimento al momento di queste utilities non è così esagerato, a parte Saras che è veramente un bel dividendo, ma stiamo comunque andando su dividendi sotto il 10%, nettamente al di sotto del 10% lordo, andiamoci a scegliere questa mia opinione personale, l'azienda che ha una bella capitalizzazione, che poi la bella capitalizzazione riduce bene anche lo spread, denaro lettera, è più liquida. Andiamoci a cercare un'azienda che ha un payout basso, oltre ad avere uno di questi dividendi che bene o male pagano, siamo là, pagano quasi tutte la stessa cosa, è un bilancio soprattutto migliore, quindi che rende poi il dividendo costantemente affidabile e anche un'azienda che ha uno storico abbastanza, come si dice, affidabile di distribuzione di dividendi che non ha mai fatto scherzi, un po' come è successo nelle sopraccitate Edison e Saras. Dunque, partiamo da Enel, che stanno tutte là però, è la capitalizzazione più alta di cui parliamo oggi, un colosso, 74,77 billion, un dividendo spagato due volte l'anno, una volta a fine gennaio, una volta a fine luglio, del 6,8% annuo. Ah, purtroppo vi parlo subito di un paio di difetti, il bilancio è ok, riesce a fare comunque un utile netto, che poi non è sempre in aumento, ovviamente qui stiamo parlando di investimenti alternativi con piccole sites, magari di piccoli risparmi, non ci possiamo aspettare i bilanci di Apple, Meta, eccetera eccetera. Quindi questo è un buon bilancio per questo comparto. È un payout però troppo alto, un indebitamento dell'azienda troppo alto, questo è il mio parere. Fa sì che questa azienda, sì, è too big to fail, perché ha un'importanza veramente, non so quanta gente dal lavoro in Italia, che indotto crea, perché Enel è presente in tantissimi settori, anche nelle colonnile, si sta investendo tantissimo nelle rinnovabili, verrà sicuramente aiutata dallo Stato sia a far soldi in questo momento che nei momenti di difficoltà. Però ragazzi, Enel secondo me si può trovare di meglio piano piano, o aspettare veramente una grossa, grossa debolezza che abbiamo visto nonostante tutto dal 2022 quanto è stata lenta ad uscire. Comunque, passiamo ad una che invece veramente mi piace, soprattutto perché anche lei è rimasta abbastanza indietro, si sta proprio riprendendo adesso, perché giustamente i mercati poi vanno a cercarle le opportunità anche un po' con il lanternino. Una market cap buona, buona ma non esagerata, di 4,25 billions, un dividendo del 6,7% e un payout del 58%. Paga una volta, paga una volta l'anno a maggio, quindi tra poco, ha un buon indebitamento, un brutto grafico, però se lo si allarga bene non è un cattivo momento, perché stiamo praticamente a un anno, proprio negli ultimi mesi sta risalendo, però stiamo in un anno che ha perso ancora il 10% anno su anno, quindi non è neanche carissima. Secondo il mio modesto parere, per chi ha pazienza, per un investitore che vuole mettere un utilities nel cassetto, questa è una di quelle, diciamo. Snam è un'altra, come queste sono diciamo le due che probabilmente mi piacciono di più, ha una market cap bella grande, è una grossa capitalizzazione, si può dire, non è un enorme, è proprio un titano, ma 14,68, è il gestore della rete del gas, un dividendo del 6,5%, paga anche lei due volte l'anno a chi gli sta simpatica questa distribuzione, sia a fine gennaio che a fine giugno, payout dell'82%, in un anno, anno su anno ha perso ai prezzi di oggi il 13%, ed è praticamente il gestore della rete del gas che stocca, è un'azienda importantissima ragazzi, mi direte sì, il gas non è più quello di una volta, il prezzo del gas non è più quello di una volta, però ragazzi è veramente, questo ha un vantaggio abbastanza competitivo, ha tanti istituzionali che l'hanno in portafoglio e non è carissima, quindi questa mi piace tanto a livello anche di PE e tutto il resto. Adesso ci sarà, prima di parlarvi di Eni, che ve l'ho spostata all'ultimo tra le grandi, ci sarà una carrellata di, ci saranno quattro aziende che non sono, sì sono statali anche loro, che hanno delle partecipazioni legate allo Stato, ma sono comunali, sono legati a una sorta di comuni, sono presenti nel territorio a livello regionale o più regioni, sono sempre delle utilities che hanno tutte un buon dividendo, dal 4 al 6,5%, però non sono la stessa cosa di queste qua più grandi, secondo il mio parere abbiamo visto, oggi ci hanno aperto ieri i telegiornali, si tratta di IREN, cominciamo da Gas Plus che ha il dividendo più grande di 6,5% ed è una piccolissima capitalizzazione di 102 milioni di euro, come vi dicevo prima queste capitalizzazioni così piccole possono avere problemi, non sono la stessa cosa di quelle molto medie o grandi a livello di liquidità, ve lo dico perché in passato ho fatto, ho comprato qualche piccola capitalizzazione, mi ritrovavo in un guadagno del 7%, poi però quando andavo sul prezzo denaro di chi compra, denaro lettera, lo spread, dove poi il guadagno non era del 7% ma del 5%, del 4%, del 3%, quindi dovete valutare anche questo in un investimento, per essere un investimento da cassetto Gas Plus non mi piace a meno che veramente non me la scontano tanto tanto tanto. Stesso discorso vale per il 6,5% di IREN che paga a luglio, ha questa caratteristica per chi ha un portafoglio che magari distribuisce in maniera meno costante da luglio non ha beghi incassi, è una buona market cap IREN, abbiamo sentito parlare con questo casino che è successo lì in Liguria, l'arresto del Presidente del Consiglio e queste cose all'italiana ragazzi, voti di scambio, si pagano, il titolo ne ha risentito neanche tanto perché giustamente, anche giusto perché insomma l'azienda fa il suo lavoro, deve portare i suoi bilanci, pagare i suoi dividendi. Questa market cap 2,34 è abbastanza grande, ha un alto debito, sono andato a scavarla proprio ieri che stavo guardando, la conoscevo già e quindi è presente sul territorio, non vi so dire, non mi fa impazzire neanche lei ovviamente, a meno che veramente non me la scontano pesantemente, mi può interessare un po' il dividendo, però ecco mi comporterei, almeno personalmente sono fatto così con queste e con tutte queste altre, se capiterà l'occasione, un po' come mi sono comportato con Edison, mi accontenterei anche di pochi, pochi soldi per poi uscire e cercare di meglio. Dunque era, era, e anche lei ha un debito molto, abbastanza alto, può essere interessante perché oltre al dividendo del 4% che paga, mi sembra giugno, dopo correcco se ho sbagliato, in un anno è andata bene, 24% è salita, anche lei è un utilities, non bisogna aspettarsi queste super performance, soprattutto se si compra in un momento di forza come adesso, ha una market cap abbastanza grande, di 5 billions, ha dei buoni pie, diciamo, ha una valutazione abbastanza buona, i mercati se ne sono accorti, infatti il trend dell'ultimo periodo è abbastanza buono, tuttavia, tuttavia, ha i difetti di queste qua, di queste qua, è una comunale molto presente nella regione Emilia Romagna, arriva anche in Abruzzo dove sto io, anche se su Google non c'è scritto, offre i suoi servizi ben pagati, con le solite furpate, ve lo racconto proprio esperienza personale, non mi fa fare l'autolettura, devo chiamare, devo chiamare un tecnico che deve arrivare, che poi non è arrivato, insomma, nel frattempo mi sta facendo le bollette stimate, magari io sono all'estero e mi deve 500-600 euro, secondo me era, ora vedremo quando torno, comunque, giochini che fanno male al consumatore, va bene all'azionista, quindi per chi investe, sappia che queste furbate le sa fare, questa malizia era, ce l'ha, devo dirla, Acea è romana, è romana, è una municipalizzata, diciamo, anche questo, anche lei ha un debito molto alto, più alto in percentuale rispetto a era, ha una market cap di 3,5 billion, che è buona, è una capitalizzazione media, un payout per il dividendo che paga, siccome anche lei è abbastanza, è cresciuta abbastanza, anno su anno, si è ripresa, del 50% paga un dividendo del 5,3%, è interessante, cioè, a qualora arriva una forte debolezza che non arriva, perché anche in questo caso i mercati si sono accorti di lei. Concludo la carrellata, ce ne sarebbero altre a scopiave, ma le ho tolte anche perché, torniamo al solito discorso, veramente, queste ce le devono quasi regalare, queste 4 più a scopiave, eccetera, eccetera, per i dividendi, insomma, oltre il prezzo ce le devono mettere veramente a buon prezzo. Torniamo a parlare di una grande capitalizzazione, la più grande, la seconda più grande del video di oggi, perché è un colosso e perché, in caso, magari, di storno degli indici, magari, ecco, se succede qualcosa a livello di listini, una debolezza che può arrivare, abbiamo camminato parecchio, no, dal 2022 praticamente, 47 billions di market cap, Enias ha un dividendo trimestrale, totale annuo è 6,3%, paga trimestralmente, ha un payout alto dell'88%, però, ragazzi, per queste capitalizzazioni non è tantissimo, perché con queste capitalizzazioni ci mangiano tantissimi istituzionali, queste grandi aziende devono per forza portare bilanci e promettere buyback e dividendi, perché hanno tanta, tanta concorrenza di tante altre grosse capitalizzazioni come loro, quando pubblicano ogni tre mesi i conti, quindi, anno su anno sta a più 10, però, se guardate, allargate ancora di più il grafico, a 5 anni sta a più 11 ai prezzi di oggi, che sto registrando e pubblicando il video. Mi piace di questa azienda, che è più legata al prezzo del petrolio, che è ancorata all'andamento della gran parte dei titoli azionari, quindi può essere interessante per chi vuole, ecco, diversificare in questa maniera, per chi è già esposto nell'azionario e vuole legarsi in qual modo, magari senza passare anche per i certificati che ci sono sul petrolio, che sono comunque dei derivati, vuole prendersi un'azienda e mettersela nel cassetto come socio. Ho fatto del mio meglio, è venuto fuori un video un po' lungo, ragazzi, se volete mettete i like, questo passa il convento a livello di diversificazione energetica, mi fa piacere se vi iscrivete al canale, un like e alla prossima!